Stefano Candiani qui a Scordia, nella culla delle arance, il fenomeno dei furti è un fenomeno che lui conosce bene anche perché è stato sottosegretario agli interni fino all'anno scorso. Che cosa si può fare? Bisogna innanzitutto prendere consapevolezza fino in fondo e non limitarsi solamente a guardare l'arancia perché poi il problema dei furti in agricoltura si estende su tutto l'arco dell'anno alle primizie fino a passare a tutti i tipi di prodotto in agricoltura. Il problema è serio perché non può essere un problema che entra alla ribalta della cronaca e viene preso in considerazione solo quando scorre il sangue nei campi perché questo è un problema che depreda la nostra agricoltura, i produttori sani, i produttori agricoli della Sicilia di una grande quantità di valore. Prima facciamo una stima, una valutazione e si sballa poco se si parla di qualche centinaio di milioni all'anno di furti, di materia prima, di prodotto agricolo dei campi. Che cosa occorre fare? Controlli seri e repressione nei punti di vendita perché non è ammissibile che ci sia il prodotto rubato nei campi che poi vada in vendita agli stessi mercati ufficiali. Questo non è ammissibile. Occorre poi anche una presa di consapevolezza a livello regionale che per il percorso anche di disposizione delle telecamere sul territorio va implementato e su questo l'onorevole Bulla se ne farà direttamente interprete all'interno della commissione agricoltura. E poi da ultimo ma non ultimo occorre una presa di coscienza a livello nazionale, su questo è già coinvolto il nostro ex ministro Centinaio, che occorre una ripenalizzazione del reato. In questo momento il reato, il furto del prodotto in agricoltura è sostanzialmente bagatellare. Questo produce una suefazione, quasi pensare che sia una cosa normale andare a rubare il prodotto in agricoltura. Rubare è rubare. Punto. Chi fa queste cose deve pagare un prezzo. E ci deve essere chiaro anche il quadro penale. Le forze dell'ordine non devono avere frustrato la loro azione di repressione dal fatto che poi il ladro venga sostanzialmente rilasciato un minuto dopo. Su queste cose massima determinazione e conto già nei prossimi giorni di tornare in prefettura dal prefetto di Catania per vedere e di capire che cosa è stato fatto e che cosa ancora deve essere fatto. L'imprenditore Alba gli ha illustrato un quadro molto chiaro e lei alla fine ha detto non ci vuole l'esercito. Perché dice questo? Perché è chiaro anche che sul territorio il controllo non si fa con centinaia di migliaia di uomini o carri armati. Ma bisogna controllare quella decina di punti strategici dai quali poi i trasportatori passano. Questo è un meccanismo molto chiaro. Sono noti i percorsi, sono noti anche le vie di comunicazione. Lo avevamo già indicato al tempo e pretendiamo che ci sia una giusta azione di repressione su chi fa questo tipo di furto in agricoltura. Si controllano i crocevia delle strade e da quello poi si imperisca il trasporto della merce.